buonasera signore e signori ragazze e ragazzi mi chiamo marcello secco e faccio queste registrazioni per passioni quindi vi chiedo di iscrivervi al canale attivare la campanella per essere sempre aggiornati usate perché ogni giorno presento una moto nuova oggi infatti voglio parlarvi di moto guzzi v100 mandello del 2022 la nuova moto guzzi v100 è stata presentata al salone di milano nel 2021 ed è stando fra gli appassionati un notevole interesse proprio per la novità le novità che il modello introduce nella famiglia delle moto guzzi la moto infatti è stata progettata partendo da un foglio bianco per sottolineare il passaggio ad un nuovo tipo di approccio pur rimanendo rispettosi della tradizione il motore qui ben visibile nell'immagine risulta di fatto compatto e leggero e 103 mm più corto del motore del motore della v85 tt e si distingue inoltre per le teste vedete ruotate di 90 gradi per aumentare l'abilitabilità del pilota e facilitare la disposizione dei componenti dell'aspirazione e dell'iniezione elettronica la cilindrata effettiva di 1042 cm3 la distribuzione a doppio albero a camo in testa con bilanciere a dito e quattro valvole per cilindro comandate da catena la lubrificazione a carte rumido nel raffreddamento liquido mentre la frizione in bagno d'olio è dotata di comando idraulico il motore una potenza di oltre 115 cavalli una coppia di oltre 105 newton metro e con soprattutto il 90 per cento della coppia disponibile già da 3.500 giri e il limitatore fissato a ben 9.500 giri al minuto la trasmissione finale ad albero cardanico vedete qui nell'immagine si avvale di un monobraccio in alluminio dello sviluppo molto lungo e posizionato sul lato sinistro la moto guzzi v100 mandello sarà prima motocicletta con aerodinamica adattiva la prima moto guzzi rotata di evoluzioni volute soluzioni elettronico come la piattaforma inerziale seasse il corner in abs le sospensioni semiattive e il quickshifter per aumentare la protezione dell'area è stato sviluppato un sistema di aerodinamica adattiva che regola automaticamente la posizione dei due deflettori laterali ai lati del serbatoio qui in posizione alta rispetto al serbatoio in funzione della velocità e del riding move selezionato le appendici aerodinamiche completamente sollevate riducono la pressione dell'area sul pilota del 22 per cento anche grazie alla protezione offerta dal cupolino che è regolabile in altezza elettricamente inoltre una la dotazione elettronica prevede l'acceleratore elettronico ride by wire per una fine controllo fine della gestione delle prestazioni dei consumi l'evoluta centralina di controllo marelli 11 mp la piattaforma inerziale sei assi in grado di gestire al meglio i controlli elettronici cruise control il corner abs garanzia della sicurezza attiva in frenata e in curva il ride in moda a disposizione sono quattro viaggio sport pioggia e strada ognuno dei quali gestisce tre differenti mappe del motore quattro livelli traction control tre livelli di freno motore e nella versione che lo prevede di sera anche la taratura della sospensione superattiva elins smart ec 2.0 capaci di adattare automaticamente l'idraulico istante per istante al tipo di guida adottato alle condizioni dell'asfalto di serie presente anche la strumentazione tft a colori da 5 pollici impianto di illuminazione full led e il sistema bending lights con la coppia di fari supplementari presente nel parabolo che illumina all'interno della curva aumentando quindi la visibilità in piega quindi vedete un moto sicuramente molto moderna che pur nella modernità rispetto rispetto a quelli che sono poi i canoni del moto guzzi caratterizzati dalla presenza del motore av di 90 gradi bene quindi se vi è piaciuto mettete un like se non vi è piaciuto un dislike iscrivetevi al canale e attivate la campanella così sarete costantemente aggiornati qui sotto i vostri commenti sempre molto graditi ciao e buona giornata